Oggi si va a Dubai. Prima volta in assoluto per noi a Dubai, l'abbiamo vista solo in video e l'abbiamo sentita a parlare solo per il fufo guru. Nooo. È la verità, è la verità. Scusa, eh. Eccoci qua. Devo entrare da di là. Devo entrare da di là. Abbiamo preso Uber e in un'oretta dovremmo essere a Dubai. Uber ci ha lasciato a Dubai Mall. Questo centro commerciale è qualcosa di enorme. Sto aspettando Mati che è andata in bagno e ci sta mettendo una vita. Sto iniziando a preoccupare. Eccola, eccola. Finalmente. Vedo di nuovo. Sei mancata amore. Ci hai messo una vita. Eh, lei mi si è rotta da contatto. Incredibile quanto è grande. Così grande che non troviamo l'uscita per andare a buscare i fai. Un pelo. Si stava per schiacciare il telefono per fare sto video della scala mobile. Abbiamo trovato l'uscita. Let's go. Ragazzi, guardate che bellazza qua fuori. Ma guardate una roba. Quanto è alto! È altissimo, amici. Pazzesco. È altissimo, eh. Ti sento una formichina. Ma pensi a andare sopra e vedere giù. Mamma mia. Perché sono tipo dei puntini. Non riesco a inquadrarlo col telefono, tanto che altro. Guarda qui, oh. Sembra un boomer. Ragazzi, piccola news. Stavo registrando uno dei miei video. Se fai centro è vero qua sotto il Bush Khalifa. Mi sono venuti a sgridare. Hanno detto che non posso fare attività con dietro la vista. Ma posso fare solo video normali dove riprendo la città. Io ovviamente il video l'ho registrato. Lo pubblicherò lo stesso. Comunque qua male male, eh. Davvero male male. Si può fare un... La vista comunque è impressionante. Bellissima. Fa paura Dubai, oh. Da qua si vede l'attività che abbiamo prenotato. Lì c'è uno scivolo ed è trasparente. Ora andrò a farlo. C'è un po' di fifa. Un pochino, un pochino. Guardate quanto è alto. Faccio lo scivolo. C'è un pochino, un pochino. Non so di cadere nel vuoto da un momento all'altro. Ora qua c'è tutta la terrazza nitrata. Mamma mia. No, se mi fermo è grave. Se cammino... Meno, meno grave. Sto sudando da quanto ho paura. Stavamo camminando qui tranquilli tra i negozi, no amore? Stavamo guardando i negozi, no? Qualche vestito poi a un certo punto. In mezzo proprio. Guarda lì, oh. L'acquario. Guardate quanti squali. In mezzo ai negozi. Non so se mi spiego, ma guardate quanto è grande. E c'è anche chi entra nella gabbia e si fa circondare dalle squali. Guardate ragazzi, andremo sulla terrazza proprio lì della vela di Dubai. Bush al-Aharab. Scusate la pronuncia, se non sono bravissimo. Questo è il cappuccino d'oro 24 carati. Mai provato in vita mia un cibo commestibile con l'oro. Questa è la prima volta. Com'è questo golden cappuccino? Cappuccino. Hai veramente ragione, è cappuccino. Non so di preciso cosa mi aspettassi da un cappuccino con sopra dell'oro. Cioè di cosa sa l'oro? Ah non lo do. Non lo mangiate. No, no. O come il brownie, cioè un cioccolatino. Vabbè, cioccolatino ai 24 carati. Che cioccolato? Ai 24 carati, vai. Cioccolatino ai 24 carati. Non è buono? Aspetta. Ah, con l'oro. Vai, vai, con l'oro, con l'oro. Eh, adesso è buono. Io guardo. Eh, adesso è buono.